È nota soprattutto per la sua splendida reggia. Ha sempre sofferto il confronto con Napoli, la sua ingombrante vicina. Parliamo di Caserta, una città che in passato ha visto nel gioco del calcio una possibilità di visibilità e riscatto sociale. Il grande salto di categoria avviene nel 1969, quando la squadra locale vince il campionato di Serie C e conquista il diritto a salire nella Serie Cadetta. Caserta è una città borghese che basa la sua economia fondamentalmente sui tanti militari che ci sono a Caserta. Caserta è piena di caserme, ancora oggi è piena di caserme, oltre dell'esercito anche dell'aeronautica. Caserta dovrebbe essere un subborgo di Napoli. La Coppa della vittoria della Serie C è ancora nella bacheca della squadra, eppure non dovrebbe essere lì. Italia in 4D vi vuole raccontare una storia incredibile. Tre giorni di autentica guerriglia, scatenata per una mancata promozione. È l'ultima partita della stagione 1968-69. La Casertana è prima in classifica, tallonata a poca distanza dal Taranto, sua principale avversaria. L'intera città aspetta il fischio finale per festeggiare la promozione. La promozione in Serie B al termine del 1969 è per questa città borghese, fondamentalmente cattolica, è una grossa forma di riscatto. Quel giorno, Casertana-Messina, ci sono allo stadio Pinto 15.000 spettatori. Caserta fa 60.000 abitanti. Praticamente un quarto della popolazione è presente allo stadio. Al termine del campionato, però, arriva una denuncia proprio dalla sua principale contendente, il Taranto. La Casertana avrebbe vinto una partita, quella con il Trapani, grazie a un accordo tra alcuni giocatori. Come è scoppiato il caso? La partita si risolverà sei minuti dalla fine, quando il Trapani stava quasi sfiorando il vantaggio su un tiro a colpo di sicuro di Giagnoni. Di Maio salvò il pallone sulla linea, da là nacque questo contropiede velocissimo e la Casertana trovò la rete dell'1-0. E portò a casa tre punti che forse risultavano veramente fondamentali per la vittoria del campionato. Scattano gli accertamenti da parte dell'ufficio indagini della FIGC. Comincia un'estate di attesa e trepidazione. Se la Casertana sarà riconosciuta colpevole, subirà una penalizzazione e non riuscirà più a salire in Serie B. La sentenza è prevista per il mese di settembre. La sera del 7 settembre alle 23.30 faccio l'ultima telefonata al capo della redazione sportiva del giornale con cui lavoravo, il tempo, Peppe Presutti. Si sa niente? Sì, hanno deciso, però c'è l'embargo della notizia. È stata secretata. Domani mattina verrà detta dal giornale radio delle 9.30. Scesi dalla redazione ad informare un gruppetto di tifosi che facevano tardi a un circolo sottostante. Nel mentre salva, mezzanotte e dieci circa, rombare di motocarri dalla direzione della reggia, quindi dal nord accesso in città, una lunga teoria di camionette e di autocarri carichi di agende di pubblica sicurezza. Qualcuno disse, allora è capito tutto. Per mandarli a Caserta vuol dire che Caserta sarà la città indignata. Lì domani mattina, alle 9.30, il giornale radio diede la ferale notizia. Giornata di tensione e di disordini a Caserta. Sono stati naturalmente la delusione e il disappunto per la notizia che hanno acceso gli animi dei tifosi di terra di lavoro. A più riprese è sembrato che la protesta stesse per degenerare in un'esplosione di collera. Per fortuna, ogni volta è prevalso l'invito alla calma, rivolto in maniera pressante e accorata dagli stessi dirigenti della Casertana. Fu fatto un consiglio comunale di urgenza e nel contempo affisso un manifesto che fece poi discutere. Il sindaco, a nome della giunta, invitava la popolazione a manifestare con ogni mezzo consentito la propria indignazione alla ingiusta sentenza. Al termine di un'affollata assemblea popolare, un corteo con alla testa il sindaco sta attraversando le principali strade cittadine. Non sono mancate tuttavia le azioni sconsiderate, la rottura di vetrine di negozi, blocchi stradali, con interruzione del traffico anche sull'autostrada del sole. Poi l'episodio di intolleranza più grave, l'occupazione della stazione ferroviaria, che nel pomeriggio è stata bersaglio di una fitta sassaiola durata circa sei minuti. Ci fu l'inaugurazione a Caserta, o Dio, una prerogativa non esaltante, dei primi scudi di plastica antisommossa. La prima volta che venivano usati in una sommossa. Il fermento si è rinnovato in mattinata e nel primo pomeriggio, nonostante gli inviti alla moderazione e l'opera di persuasione svolta dalle autorità, dai dirigenti del sodalizio sportivo e dalla forza pubblica. Si sono formati cortei di tifosi nelle vie del centro, con manifestazioni di intemperanza dinanzi ad edifici pubblici e alla stazione. Tafferugli anche stamattina. Cittadini ed agenti di polizia sono rimasti contusi e feriti, 43 persone complessivamente. A luna, alle 13, 13 e 30, è come se suonasse la campanella per il pranzo. Stop alla sassaiola, che dalla finestra della redazione partiva da sinistra, e ai lacrimogeni che venivano spati dalla destra dalla polizia. Calma. Arrivava il carrettino delle pannocchie bollite, dalle nostre parti si chiamano pollanchelle perché sono assimilabili ai cosciotti di galline bollite, e si rifocillavano sia i giovinotti che i poveri soldati che avrebbero dovuto aspettare la sera in gaserma per un pasto. La sentenza è prevista per il mese di settembre. Al termine degli scontri saranno 99 le persone fermate e processate. Nella sua ringa finale, l'avvocato metterà in luce l'importanza assolutamente esagerata che il gioco del calcio sta assumendo nel nostro paese. Il pallone è meglio di un libro da leggere, il pallone è meglio di un cinema a cui assistere, di uno spettacolo teatrale. Inizio, fece uno spaccato di una città di provincia che però, pur non essendo fatta di tutti i tifosi esaggitati e fascinorosi, pur tuttavia, un po' sonnecchiando, aveva assistito a tutto questo che si andava verificando in quei due giorni, tre giorni di rivolta. Grazie a tutti.